Chi ha che mi scrive? Siamo con la presente a richiederle di sottoporci delle iniziative al fine di creare maggiore aggregazione tra i nostri associati. In attesa di un suo gentile riscontro, la preghiamo di rispondersi al più presto. Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari da FIMA. Ale! Sai chi mi ha scritto? Chi? Quelli della FIMA. Ancora? Ancora sì. Guarda qui. Ma cos'è che vogliono? Eh, leggi, leggi. Gentile Presidente. Aggregazione. Ancora? Ancora. Ancora. Ci tocca. Aspetta un attimo va che mi siedo. Dai, vieni qua. Cioè ma anche questi cosa vogliono? Abbiamo già fatto il seminario sull'antiriciclaggio. Sulla privacy. Quello sulla privacy. Partita di calcetto. Il deposito prezzo. Il deposito prezzo. Il deposito prezzo da notaio. Abbiamo fatto già una perifima. Ah sì, quello da Rita. Eh. Bello quello. Quest'estate. Poi? Bifima, scusami. Cioè Bartolino. Una settimana di qua, di lago, a far questo, quell'altro. E vogliono ancora. Il sangue. Ci tocca cacciare il sangue. Ma poi queste associazioni qua. Cosa fanno? Cosa servono? Ma io non lo so. Non lo so capire. Ma la vada appena 2018? Hai ancora voglia tu? Eh, non lo so. Vediamo. Dipende. Bisogna che glielo diciamo. Perché qua non è possibile fare sti turni. Lasciamo. Ci tocca. Ma qual è il valore aggiunto? Poi mi chiedo io. Il valore aggiunto? Facciamo solo fatica per niente. Vabbè. Quindi? Cosa facciamo? Non ho idea. Aperitivo di Natale? Aperitivo di Natale. Tac. Aperitivo di Natale. Aperitivo di Natale. Aperitivo di Natale.